Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questa nuova puntata della MaulloCraft Io sono Maullo941 e stiamo in un nuovo episodio della nostra avventura Se non sbaglio numero 10 Ragazzuoli, io mi trovo perfettamente in un buco chiuso Perché ci siamo persi, signori miei Che cosa carina Ebbene sì, signori miei Ero andato in esplorazione alla ricerca di materiali Ovvero coloranti per poter colorare le nostre pecore E non ho trovato niente Mi sono allontanato non so da quanto da casa Praticamente per cercare dei cactus E non ho trovato un cazzarolo di cactus in tutto il mondo Infatti io volevo tornare a casa Ma è notte e mi sono perso E siamo un po' nella cacca Detto questo ragazzuoli Allora, non perdiamoci d'animo Noi abbiamo un poco di ferro Quindi facciamoci una cazzarola di armatura Che non so da quanto tempo è che Avevo già la crafting table Ma quanto sono scemo Allora, con calma Piazziamo la crafting table, signori miei Piazziamo la crafting table E facciamoci un poco di armatura, signori miei Che siamo troppo scoperti Siamo troppo vulnerabili E in notte questa cosa non va bene Tra l'altro siamo circondati da dei mostri Non so se sentite i rumori di sottofondo Allora, queste sono le cose importanti Riusciamo a fare tutto? Forse sì Qualcuno sta già morendo Quindi forse sta sorgendo il sole Sta sorgendo il sole Dio benedico il sole Allora Insaliamo l'armatura Perfetto Rompiamo la crafting table E prepariamoci a partire Allora ragazzuoli Non sento più i mostri Quindi forse Forse è giorno Sì, è giorno, è giorno Ok Allora, secondo un'antica leggenda Noi non interessa assolutamente niente di tutto questo Recuperiamo una spada Io ho rischiato di morire tantissimo Allora, casa nostra dovrebbe essere in quella direzione Secondo un'antica leggenda Secondo un'antica leggenda Secondo una leggenda vicina Non siamo completamente fuori strada Allora, stiamo calmi Sarà da quella direzione casa nostra E chi lo sa Io mi sono allontanato un sacco Per cercare dei cactus E non ho trovato il minimo Forse sì, forse sì ragazzi Se spunto una pecora gigante Siamo vicino casa nostra Se spunto una pecora gigante Siamo vicino casa nostra ragazzi Voglio la pecora gigante No Buchi su buchi Ragazza Allora siamo finiti raga Però vedo delle montagne con dell'erba Vedo delle montagne dell'erba Quindi forse se andiamo un po' più No, dove siamo raga Ci sono dei creeper intanto Ci sono dei creeper intanto Non sappiamo dove siamo Ma ci sono dei creeper C'è della lava bruttissima Raga, siamo ancora alla ricerca Sto ancora girando a vuoto Signore di me Troveremo casa nostra Ve lo prometto Riusciremo a trovare la nostra La nostra casa Sperando che le coordinate che ho Siano le coordinate giuste raga Perché mi sto Basando semplicemente Sulle coordinate Che avevo Segnato su fogliettino di carta Spero che le coordinate Siano quelle giuste E non siano quelle di qualche altra Serie che avevamo iniziato E siamo nella Ci stiamo allontanando Ancora di più da casa Praticamente Spero di no Però questi alberi di betulla Mi sembra di ricordarli Mi sembra di ricordarli Questi alberi di betulla Raga Ecco I maiali mi hanno salutato Un buon Anche a voi Troppi alberi di betulla Troppi Raga In compensa abbiamo trovato le api In compensa abbiamo trovato le api Ciao Bella Pina Dove avete il vostro albero Del Vabbè Non è il momento di metterci a parlare con le api Raga Dobbiamo tornare a casa Il nostro obiettivo è tornare a casa Riuscirà il nostro obiettivo è tornare a casa No È bello È bello Se io sto seguendo delle coordinate Che non sono le coordinate di casa mia Io non so assolutamente dove stiamo andando Signori miei Non so mai più come ritrovare a casa mia Questa cosa è una cosa carina Carina che Mette tantissima angoscia però Perché se non riusciamo a ritrovare a casa nostra Siamo nella Sento dei polli Vicino a casa nostra c'erano dei polli Non mi ricordo Sinceramente Se è qua e solevalo Se è vicino a casa nostra c'erano dei polli Sinceramente non me lo ricordo C'è della neve Attenzione È un buon segno È un buon segno C'è della neve perché vicino a casa nostra c'era tanta neve Quindi forse potremmo essere pseudo vicini casa nostra Signori miei Signori Vi comunico che le coordinate che avevo di casa mia Mi hanno portato qui In mezzo al nulla Che culo signori miei Che culo Abbiamo sbagliato completamente le coordinate di casa Quindi siamo completamente persi Signori miei Siamo completamente persi Quindi Rapido taglio Signori miei E ci troveremo quando avrò recuperato nuovamente le coordinate di casa giuste Sperando che non dobbiamo ripartire completamente da casa No, voglio la mia casa nel buco No, che cosa ci fanno questi lì? Che cosa ci fanno questi lì, raga? Vabbè Facciamoli fuori, raga Se mi dà uno standard Diamo Me l'ho dato uno standard Che mi serve per casa mia Me l'ho dato uno standard Me l'ho dato uno standard Sì, sì, dammi la medizione Tutto quello che vuoi Basta che mi dai lo standard Allora, lo standard me l'ha dato Mi dà anche una balestra Brutti, zoticoni Zoticone tu E zoticone pure tu Chi da dentro dice pure Sei uno zoticone Zoticone Astag zoticone Ok Li abbiamo fatti fuori, signori Li abbiamo fatti fuori Abbiamo ottenuto lo standard Abbiamo la maledizione Quindi siamo un attimino nella cacca Perché se becchiamo un villaggio Siamo nella cacca E in tutto questo, signori miei Io faccio una breve pausa E tornerò quando sono nuovamente in direzione verso casa Ok, ragazzoli Allora, ho trovato delle altre coordinate Che vediamo di seguire Vediamo se riusciamo a A Ad aver trovato le coordinate giuste di casa, signori miei Le coordinate mi stanno indirizzando in quella direzione Cioè ci siamo leggermente allontanati Che cazzo era quella cosa Mi è scappata davanti Non lo so Ha un lupo Ho delle ossa per il lupo Bello? No Non ho delle ossa Mi dispiace lupo Ciao Ciao lupo In tutto questo Stanno nuovamente calando la notte E noi Aia Mi sono spiaccicato male le ginocchia Mangiamo perché siamo messi male Sta calando la notte E mi piacerebbe tanto poterla passare nel mio letto La prossima notte La prossima notte mi piacerebbe passarla tanto nel mio letto Qui la neve è un attimino diminuita E questa è una cosa buona Che la neve sia un attimino diminuita È una cosa buona Ora se riusciremo a trovare la direzione di casa Qui ci sono delle pecore Accelere un attimo il percorso Dai 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 Se non sono nemmeno queste le coordinate Raga Una live in cui Dobbiamo semplicemente ritrovare un video In cui dobbiamo riuscire a ritrovare la strada di casa No è di nuovo notte È di nuovo notte Raga Abbiamo l'armatura questa volta Quindi non abbiamo paura di nessuno Abbiamo l'armatura Non abbiamo paura di nessuno Che cazzo rola è questa montagna qua Non ho mai avuto una montagna così vicino io casa Breve stacco raga Breve stacco Breve stacco Vediamo come evolve la situazione Ragazzoni carissimi Allora l'ambiente sembra quello di casa Sembra che ci siamo un po' più vicini rispetto a prima Siamo un attimino circondati da tanti fan Che vorrebbero vedere tante belle cose di questo video Ma non li possiamo Rendermene sparito Non possiamo perdere tempo con loro Mangiamoci un'altra bistecca E ripartiamo all'avventura Ripartiamo all'avventura Dobbiamo andare in quella direzione Più o meno Più o meno dovremmo avvicinarci verso casa Forse In questa direzione Forse dovremmo iniziare a vedere qualcosa di casa nostra Forse Perché non ho qualcosa Aspettate Questo buco me lo ricordo Questo buco Forse me lo ricordo Forse ci siamo raga Forse ci siamo Zitti 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 Forse siamo vicino a casa Forse Troppa gravel c'è raga Tutta sta gravel è solo vicino a casa nostra Tutta questa gravel è solamente vicino a casa nostra Però quest'albero lì non me lo ricordo per nulla Quest'albero non me lo ricordo per nulla Non me lo ricordo per nulla Allora ragazzoni In questo preciso momento voi vedete le coordinate Perché sto cercando delle altre coordinate Praticamente per avvicinarmi nuovamente a casa Vediamo se questa volta abbiamo più fortuna Signori miei Vediamo se questa volta abbiamo più fortuna È bello che per voi questo video Vi durerà pochissimo Durerà pochissimo Sto vomitando Durerà pochissimo Per me è praticamente una ricerca infinita di casa mia Allora dovremmo riuscire a raggiungere Con le coordinate Con le coordinate x x Stiamo provando ad andare a x-169 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 y-z z z-5 Vediamo se riusciamo a beccare qualcosa in questa direzione Raga C'ho scritto diamanti Quindi Deve essere per forza la zona Allora Meno 5 l'abbiamo raggiunto Meno 5 l'abbiamo raggiunto Più o meno Ora dobbiamo raggiungere Meno 100 Dove cazzo Meno 169 Dovrebbe esserci La risalita del nostro Dovremmo essere dietro Dovrebbe comparire una pecola in teoria Una pecola enorme Dovrebbe comparire una pecola enorme Sì raga Siamo vicino a casa Ce l'abbiamo fatta raga Ce l'abbiamo fatta No leva questo Ce l'abbiamo fatta Guardate là il pillarone Il pillarone ce l'abbiamo fatta Siamo tornati a casa raga Siamo tornati a casa Mamma mia Che avventura assurda Che avventura assurda Allora qua c'è il pillarone Quindi casa nostra è da quel lato Casa nostra è da quel lato Mamma mia Mamma mia Che avventura raga Doveva essere un video In cui dovevo andare a colorare le pecore E invece ci siamo Praticamente persi Persi in una maniera paurosa Però l'importante È che siamo riusciti a tornare a casa Raga Riesci a saltarli Oh Perfetto Siamo a casa Ed è anche giorno Che cosa carina Che cosa carina Allora Io mi recupero velocemente Tutti i vari materiali Senni di me E ci vediamo qui Per completare Quanto meno riuscirò a fare qualcosa In questo video Praticamente Ok ragazzuoli Allora Sbizzarriamoci Sbizzarriamoci Primo colore Intanto ce ne serve Tre di colore rosso Ognuno Due Tre E queste le mettiamo da parte Poi tre di colore giallo Uno Due Tre Perfetto Tre di colore nero Uno Due Tre Ok Dopodichè dobbiamo fare Dove che facciamo Il giallo con il rosso Dovrebbe darci l'arancione Perfetto Ce ne servono due Perché abbiamo due Abbiamo tre pecore per gruppo Poi Il rosso Col bianco Dovrebbe darci il rosa Perfetto Ce ne servono due Ottimo Poi il bianco Con il nero Dovrebbe darci il grigio Ce ne servono due Perfetto E poi E poi E poi E poi E poi che cos'altro ci serve Cos'altro ci serve Il rosa Aspettate Il rosa col rosso Se non sbaglio Mi dovrebbe dare un altro colore Può essere No Il rosa col bianco Mi dà un altro colore No Il rosa Con che cazzo La mano dava il rosa Il rosa col nero No Il rosa col giallo No Mi manca un colore Raga Mi manca un colore Ma non è importanza Non è importanza Tanto ci manca tantissimi colori Raga Ci manca il Recuperare Dei lapislazzuli Che dovrei avere qua sotto Dei lapislazzuli Che abbiamo qui Ce ne servono un po' Po' Perché dobbiamo farne Tre Devono essere di colore Per il blu E poi altri tre Per fare il celeste Quindi tre Me ne piglio Per questo Di qua Ok Altri tre Li mettiamo di qua Insieme al bianco Dovremmo avere Il celeste Più chiaro Perfetto Eh no Questa non mi serve Questi L'abbiamo presi Perfetto Questi rimettili qua E dobbiamo L'ultima cosa dobbiamo fare Raga Dobbiamo andare Nella farm di pesca Andare nella farm di pesca Ce la facciamo Ce la facciamo Ce la facciamo Entrare nella farm di pesca Recuperare una targhetta Perfetto Tornare giù Tornare qui All'incudine Metterla nell'incudine Signori miei E rinominarla Con il nome di Jeb Jeb Trattino basso Perfetto Così avremo anche La pecora multicolore Se mi ricordo giusto Che se faceva così Perché non ricordo Se effettivamente era così Però va bene Andiamo Dalle nostre bellissime pecorelle Allora signori miei Saliamo qui sopra Allora queste tre Le lasciamo bianche Poi facciamo Rossa Deveni qua Rossa 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 Ok Poi facciamo Celeste Celeste Perché si allontanano Celeste Poi facciamo Blu 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 Deveni più qua Blu Ok Poi la facciamo Grigia No Sto a cascato Grigia 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 Bella così Come la fai Gialla 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 Ok Arancione 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 Perfetto Queste le dovremo uccidere Signori miei Allora grigia Le abbiamo fatte Mi serve Rosa Queste nere Ah questo C'è colorante Nere E abbiamo finito Praticamente Allora partiamo Da qua sopra Facciamo Queste qua Le facciamo Nere Signori miei Nera 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 E queste le facciamo Rosa 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 Dopodiché Signori miei Andiamo qui Nell'ultima colonna Regoliamo la targhetta Jeb E diamo E diciamo Che lei Si chiamerà Anzi Lasciamone una sola Prima raga Lasciamo una sola Pecorella Fra queste Te devi morire Mori E Mori anche te Ok Tu che sei rimasta Sola Bella bellina Ti chiamerai Jeb Signori miei Non funziona Non era così Ma porca Di una paletta Ambriaca Ma porca Va bene ragazzi Dopo quest'ultimo fail Terribile Una puntata assurda Le pecorelle Le abbiamo colorate Ci mancano Tanti colori Ci manca principalmente Il verde E non so che altro colore La pecora Jeb Non ha funzionato Detto questo Vi ringrazio per i like Per i commenti Per la compagnia Per aver guardato Quest'episodio Noi ci vediamo domani Con un altro contenuto Sempre sul canale Bella raga Ciao